Io vi invito a chiudere i vostri occhi e fare un profondo respiro attraverso il naso e fuori dalla bocca. E mentre vi rilassate, sintonizzatevi un po' di più in quello che sta accadendo nel vostro corpo. Ci sono delle aree che vi stanno inviando dei messaggi? Forse del dolore, qualcosa che state sentendo nel vostro corpo. E se questo è il caso, che cos'è che quest'area del vostro corpo vi vuole dire in questo momento? E se siete in uno spazio molto piacevole, senza dolore, io vi invito a sintonizzarvi e a leggere il vostro cuore. Cos'è che il vostro cuore vi vuole dire? E permettete un momento per ascoltare questi messaggi. E sentite la gratitudine, il ringraziamento per quella parte del vostro corpo che voi avete riconosciuto in questa comunicazione tra qualcosa che è parte di voi e che vuole comunicare con voi. E in questa energia di gratitudine e ringraziamento ci muoviamo nella canalizzazione di Kryon e ricordiamo di continuare ad avere questo dialogo sempre di più nel futuro. Saluti miei cari, io sono Kryon del Servizio Magnetico. Vengo da voi ogni settimana con messaggi e i messaggi nel tempo sono cambiati. Sono diventati più personali e meno globali. Se osservate le trasmissioni, se volete chiamarle così, i messaggi provenienti dai libri di 30 anni fa. Il primo è stato globale. Vi parlava di un cambiamento imminente e vi diceva che non avresti avuto un Armageddon. Il libro chiamato I tempi finali riguardava la fine di un vecchio tempo, un titolo metaforico che è stato spaventoso per alcuni finché non leggevano il libro. Questi sono messaggi globali, ma in questi ultimi anni i messaggi sono diventati più personali e il motivo, cari miei, è perché la relazione che avete con la sorgente creatrice, che chiamate Spirito, Dio, sta iniziando a diventare più intima. E questo è stato fatto di proposito dalla vostra stessa società, dalla cultura e dall'umanità. Voi avete eletto questo con libero arbitrio. avete scelto di iniziare a cambiare l'energia di questo pianeta. Alcuni di voi diranno non ricordo queste lezioni. La coscienza è così quando un miliardo o più di persone ad un certo livello inizia a comprendere l'integrità, la trasparenza, la verità, la compassione, la gentilezza e poi guardano la propria società e si rendono conto che ci sono tante cose guaste. Quando vi guardate intorno, oggi, adesso, nella vostra società, ovunque voi siate sul pianeta, ci sono cose guaste. E potreste dire, beh, naturalmente, ci sono sempre, ma adesso voi state facendo qualcosa a riguardo. Ve ne siete accorti? È di questo che stiamo parlando. Sta diventando più personale. Spesso vi diamo una tematica per il mese, per le quattro canalizzazioni che daremo, per i quattro messaggi che verranno dati. Tutti questi messaggi sono gratuiti e disponibili per tutti. Questo mese il messaggio sarà personale, pratico, eppure per alcuni sarà molto difficile. Ed è come fa l'anima antica, operatrice di luce, ad affrontare le cose ordinarie. E ho selezionato quattro cose ordinarie che sono difficili per le anime antiche e per gli operatori di luce. E quindi è un insegnamento pratico e riconoscerete alcune di queste cose. ci sono istruzioni che ho dato in passato, alcune tanto tempo fa e le riprenderò di nuovo così potrete ascoltarle anche adesso, oggi. Quello che vi do spero che lo riconoscerete è un'esercizione. Perché mentre incominciate a risvegliarvi, e utilizzo questo termine non approssimativamente, un risveglio è uscire dal sonno. Infatti, dormire il sonno è un tipo di realtà. Quindi, mentre vi risvegliate, uscite da quello stato di sonno, aprite i vostri occhi. E questa è la metafora per le anime antiche in una nuova energia che iniziano a diventare consapevoli delle cose intorno di cui non erano mai state consapevoli prima, compresa una verità più grande. L'abbiamo ripetuto tante volte. c'è una verità più grande. Ci sarà sempre. Più scoprirete davvero quello che sta accadendo all'energia della vostra anima, al sistema della vostra anima, più scoprirete che le cose non sono proprio come vi è stato detto, più scoprirete questo e più grande sarà il risveglio. Questo è ciò che chiamiamo una verità più grande. E vi abbiamo dato tantissime metafore e questo crea uno scenario differente, un paradigma di vita perché vi risvegliate e capite che le cose sono più difficili perché intorno a voi c'è un intero pianeta che potrebbe non condividere il vostro risveglio. Le anime antiche con centinaia di vite passate si stanno risvegliando per prime e si può dire che questo abbia senso in questa scuola di esperienze ed espressioni. Voi attraversate centinaia di vite e tornate ogni volta con ricordi e una sapienza cascica ad un certo livello di quello che avete fatto. È questo che rende un'anima antica un'anima antica. quindi la prima di quattro riguarderà quello che chiameremo una cosa ordinaria per un'anima straordinaria come voi un'anima antica e sarà questa. Gestire la coscienza attorno a voi e questo comprende tutto. Nel secondo, terzo e quarto messaggio parleremo di come affrontare la famiglia il posto di lavoro la cultura ma questo messaggio è generale. Come affrontate la coscienza che è attorno a voi? Ci sono delle istruzioni specifiche che vorremmo darvi ma prima definiamolo meglio. Cari miei improvvisamente qualcosa ferisce il vostro cuore vi trovate in una situazione in cui siete sempre stati con gli amici e improvvisamente vi rendete conto di cosa produce il pettegolezzo la lamentela e avete sempre fatto parte di questo ed era normale perché è quello che fa la natura umana spesso non c'è il male lì non c'è un'energia oscura è semplicemente una coscienza più bassa ma improvvisamente voi reagite a questo e quindi non volete più contribuire al pettegolezzo alla lamentela o a tutte queste cose che sembrano solamente spingervi in basso in un buco oscuro desiderate portare cose illuminate e positive e se ci avete mai provato in un gruppo che è impegnato nel pettegolezzo semplicemente vi guarderanno senza dire nulla e poi passeranno al prossimo argomento su cui fare pettegolezzo è difficile è difficile e cosa fate voi e c'è chi dirà naturalmente ci allontaniamo e ci sono stati giorni in un'energia più vecchia in cui era esattamente questo che facevate beh siccome io non voglio più fare queste cose non sarò più il loro amico e quindi vi allontanavate cari miei non vi allontanate e questa è la nuova informazione questa è la premessa dell'anima antica sulla terra state ascoltando il motivo per cui siete qui voi esistete adesso per la vostra memoria akashica la memoria akashica della luce che c'è dall'altra parte del velo voi siete qui per rispecchiare lo splendore dello spirito voi siete qui per rispecchiare quello in cui credete e comprendete sulla bellezza della sorgente creatrice di Dio ecco perché siete qui voi siete qui per essere un esempio ambulante di positività gentilezza compassione dell'essere in grado di guarire voi stessi in mezzo ad amici che potrebbero o no aver già visto questo quindi vi trovate vicino a chi sta spettegolando a chi si sta lamentando numero uno non intervenite dicendo quello che loro vorrebbero potreste non dire nulla ma manterrete un atteggiamento positivo e anche se non direte molto con il tempo loro se ne accorgeranno potrebbero anche rivolgersi a voi e dirvi sei cambiato non parli tanto e in quel momento capirete se siete ancora affezionati ai vostri amici e loro a voi che loro sono amici e non potete dire nulla a loro o di loro che potrà cambiarli non potete opporvi a loro o dir loro che hanno sbagliato invece se ve lo chiedono allora potete dire io mi sento molto più a mio agio oggi di quanto sia mai stato perché sto vedendo delle cose positive sul pianeta e potreste anche avere una lista pronta mi sta accadendo questo quest'altro sto vedendo certe cose e so che sono cose difficili ecco perché non parlo tanto ma mi piace stare con voi grazie vedete la saggezza in questo così facendo voi state rispecchiando la grandiosità di ciò in cui credete c'è stato un tempo cari miei quando se eravate troppo spirituali vi allontanavate vi farò un esempio che ho fatto diverse volte lo sciamano del villaggio nelle culture indigene nei tempi antichi quasi sempre viveva da solo lo sciamano nelle culture indigene nei tempi antichi nelle energie più vecchie viveva quasi sempre fuori dal villaggio da solo senza un partner da solo fuori dal villaggio avete collegato le cose perché erano talmente lontani dalla coscienza del villaggio che dovevano allontanarsi e sentivano anche che allontanandosi si rendevano più accessibili per coloro che avevano bisogno di aiuto che sarebbero poi andati a trovare lo sciamano che veniva visto come un'entità elevata che poteva guarire e dare consigli e a volte lavorava come sciamano anche per il capo del villaggio ma era sempre isolato e spesso da solo una delle caratteristiche di un operatore di luce del passato anche solo di un decennio fa era di restare isolato e di non far parte della società e questo era anche un invito a diventare un po' strano e voi sapete cosa intendo c'è chi ancora oggi dice io mostrerò tutto quello in cui credo nelle vite passate nella meditazione e tutte queste cose che sono spirituali io continuerò a farlo non importa quello che dicono gli altri e poi improvvisamente si ritrovano da soli lo dirò di nuovo essere strani essere diversi troppo strambi non aiuta nessuno su questo pianeta avete sentito sentitevi liberi di dissentire ma pensateci l'integrazione con gentilezza compassione e saggezza è l'obiettivo dell'anima antica non essere strana non stare lontano non essere talmente strani che nessuno vuole parlare con voi come potrebbe questo aiutare qualcuno sul pianeta eccetto voi stessi non può quindi la risposta su come gestire l'essere in una vecchia energia mentre voi siete entrati in una nuova è integrandosi con saggezza senza combattere la vecchia energia ma adattandovi in modo grandioso e non abbiate paura che la negatività possa contagiarvi cari miei ne abbiamo già parlato perché la bolla che voi avete vi mantiene protetti solo la purezza e cose benevolenti vi appartengono in questi tempi questa è la lezione 1 ci vediamo presto e così è grazie a tutti grazie a tutti